E' una giornata, una serata davvero straordinaria per noi, straordinaria perché dopo tre anni di lavoro restituiamo la città, una delle chiese più belle, più cariche di storia a cui siamo legati con il cuore noi salernitani e in particolare gli abitanti del centro storico. Allora abbiamo recuperato veramente un gioiello, ha parlato l'architetto Carruccio, veramente è stato un lavoro complesso, abbiamo rimosso prima il solaio in campestino per fare i lavori archeologici, vedrete quando entrerete, abbiamo lasciato a vista alcune tracce delle vecchie mura della città, la preesistenza della chiesa del Quattrocento, veramente è un lavoro straordinario. Troverete anche delle cose simpatiche e familiari, immagini di vecchi parroci che voi trovate nelle strade della città, via Valerio Laspro, come si è chiesto Valerio Laspro, era il parroco dell'Annunziata. I ragazzi non lo sanno, Marino Paglia, insomma alcune delle strade che abbiamo intitolato un po' a questi parroci ricordano parroci dell'Annunziata. Abbiamo fatto delle cose molto belle, c'era un organo meraviglioso dell'880, lo abbiamo restaurato e entrerà in funzione, credo, fra una cinque attiva di giorni, se ho letto bene la nota che mi hanno detto la sovrintendenza, veramente abbiamo rifatto la parte linea, veramente un lavoro molto attento e molto bello. Poi con calma andrete uno alla volta, attorno alla volta dove c'è la ceramica, le ceramiche di Giancappetto, è una meraviglia, quando vedete quella ringhiera e vi affacciate avete una vista mozzafiato di piazza Mendola della villa comunale del comune, è una cosa incredibile con il castello da reti dietro. Allora qui si legano le memorie più sacre della nostra città, le memorie di quelli che abbiamo raccolto qui quando c'è stata l'alluvione, quando il fango arrivava qui dentro la chiesa e arrivavano anche i morti, i nostri vecchi, e ovviamente questa chiesa oggi parla il linguaggio della modernità e della nuova Salerno. Abbiamo recuperato questo sagrato, questa era una strada banale, ovviamente come sempre per noi realizzare un sagrato intorno alla chiesa è un atto di civiltà, non solo un atto di rispetto per la chiesa ma un atto di socializzazione perché poi le famiglie che vengono qui da domenica o durante l'attività parrocchiale si possono fermare, parlare, socializzare, veramente è una cosa bellissima. Allora finisco qui, padre Claudio ha detto due cose, sulla seconda vedremo l'auditorio in San Giovanni e in Dio, sulla scuola stiamo già verificando per mantenere qui l'alanzalone e spostare qualche altra attività dentro per non perdere. Una sola raccomandazione, abbiamo fatto questa bella isola pedonale, pietra vesuviana, i ristelli di cotto, le ceramiche colorate per dare un tocco di colore. Non mi fate trovare i motorini parcheggiati o le macchine perché vi... Non posso scomunicarvi, io non so, vedete voi chi deve farlo. Noi passiamo alle vie di fatto, che nessuno si permetta, lo dico ai cittadini del centro storico, anche per non dare fastidio poi agli abitanti del palazzo. E' una cosa bellissima che serve a dare dignità alla Chiesa e serve a fare incontrare le famiglie, che nessuno si permetta di mettersi qui a fare cose incivili. Per il resto un grande abbraccio a tutti quanti voi. Ciao.